La pelle di un grosso serpente della lunghezza di 3 metri, presumibilmente un pitone, è stata trovata in un campo adiacente a alcune abitazioni di via della chiesa 18esima a Sant'Angelo. Il ritrovamento è stato fatto dagli abitanti di una corte, che hanno successivamente allarmato le guardie forestali. Giunti sul posto, i militari hanno prelevato un campione di tessuto e misurato la pelle, confermando che, con tutta probabilità, si tratterebbe effettivamente di un pitone. Verranno quindi esaminati tutti gli schedari di possesso di animali esotici, dato che devono essere obbligatoriamente denunciati, per capire la provenienza del rettile. Intanto nella zona si è diffuso del timore, soprattutto per gli animali domestici, che circolano liberi nei giardini. E' una sorpresa, perché stamattina abbiamo trattato lì davanti, tra l'altro poi in questi giorni, proprio stamattina è uscito il gatto e non è più tornato. Ora sarà un caso, perché non è detto assolutamente, no, non voglio neanche pensarci, perché è un povero gatto, però quello l'abbiamo trovato lì, è una bella sorpresina, no? Però dice che porta fortuna, perché sa la veste, speriamo bene. E' venuta la forestale? Che cosa avevano detto? Allora, la forestale è venuta, ha detto che loro faranno, guarderanno sul registro di questi animali esotici che sono dichiarati e vedranno se ha qualcuno che sta in queste zone qui, perché si presume che sia di questa zona, il serpente sia qui. Ma hanno confermato che è un pitone? Ma per il momento non si sono proprio pronunciati, no, hanno detto che pensano che sia questo, però ha detto ora dovrebbe venire stasera a Lampana a vedere, con il petologo, sperando che sia sempre a giro, e vedere un attimino, ecco, cosa può essere, se può essere, da come le misure, queste cose qui, hanno pensato che sia un pitone, però non ci sa ancora.